Cinque campioni regionali, quasi tutti under 16, 13 comuni rappresentati, 14 squadre per oltre 80 giocatori con le riserve. Dieci anni, lo scacchista più piccolo, 67, il più grande. Questi i numeri della fase preliminare del campionato amatoriale di scacchi, squadre, Regine d'Irpinia, svoltosi a Grotta Minarda nella palestra comunale. L'evento a cura dell'ASD, Circolo Scacchistico di Montella, federazione di primo e secondo livello, con il patrocinio della provincia di Avellino, del comune di Grotta Minarda e di altri comuni irpini, è l'unico del suo genere, non solo per il numero di partecipanti, quanto per il fatto di mettere insieme nella stessa squadra giocatori dello stesso comune. Avellino, Grotta Minarda, Fontana Rosa, Gesualdo, Bonito, Calitri, Guardia, Andretta, Morra, Montella, Mercogliano, Calabritto e San Martino, Valle Caudina, i comuni in gara. Quando facciamo un torneo federale, ha spiegato Marco Piccariello, consigliere del comitato regionale scacchi e responsabile giovani dell'ASD, Circolo Scacchistico di Montella, difficilmente si raggiunge questo numero di partecipanti, ma siamo soddisfatti per questo risultato specifico sul territorio, soprattutto per il fatto che siamo riusciti a far sì che si creassero squadre di paese, mettendo insieme persone che normalmente giocano individualmente e quindi creando momenti di condivisione. Prossima tappa del campionato, il 5 febbraio, per la fase intermedia a Morra De Santis. E per la prossima tappa, gli organizzatori hanno già fatto sapere che, considerata la piacevole giornata trascorsa in compagnia, ma anche l'impossibilità da parte della squadra di San Martino a partecipare alla manifestazione, è stato concordato che accederanno alla seconda fase tutte le squadre aderenti al campionato. Questa fase preliminare quindi è servita a definire le teste di serie e a permettere la suddivisione delle squadre nei vari ginoni in base al risultato ottenuto.